Non li consegnano due pacchi, idraulico si presenta alle poste con la pistola per farsi risarcire 800 euro. È successo a Canatei, l'uomo di 69 anni è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere. Scontro tra un furgone per trasporto animali e due auto, disagi sulla statale 45 bis della Gardesana. Il primo e ennesimo incidente tra due moto che si sono scontrate in curva. Missione in Trentino da parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio. La senatrice constati sul linguaggio sessista chi ha il governo dia il buon esempio. Futuro dell'area albere. Bisesti snobba il comune e decidi di non andare all'audizione in Commissione Cultura. Troppi impegni. Pattini e bozzarelli. L'amministrazione deve essere ascoltata. M49 non c'è emergenza. I dati sono in linea con lo scorso anno. I danni da orsi e lupi sono un terzo rispetto ai casi di investimento di Ugulati. 7.30, è ora di tornare a casa. È ora di fare la dichiarazione dei redditi. Prenota il tuo appuntamento con Caffacli su www.mycaf.it o telefonando al numero unico 199 199 730. Caffacli, dove tutto è più semplice.